Entro la primavera la Regione definirà il percorso del progetto del nuovo ospedale in Ossola. Ne è convinto Alberto Preioni. Il capogruppo della Lega Palazzo Lascaris non ha dubbi. Sono in corso le valutazioni. Per decidere, la Giunta Cirio tende di avere in mano i prospetti relativi ai costi e tempi di realizzazione. Studi sono in corso. Si prevede la conclusione prima dell'estate. Solo allora si potrà partire con l'iter, commenta Preioni. Il nuovo anno dunque sembra essere quello giusto, anche perché a Domodossola nel 2021 si vota e c'è da scommettere che il centro d'Esta punti molto sul tema. La mia idea di riorganizzazione sanitaria non vuole assolutamente dire chiudere il Castelli. Si affretta a rimarcare il numero uno dei leghisti in Consiglio regionale. Per Preioni la pandemia in atto ha sottolineato una volta di più la necessità di salvaguardare tutti gli ospedali locali. Mi chiedo come avremmo potuto fare se ci fosse stato un solo nosocomio in questo momento di emergenza sanitaria, aggiunge il leghista. Per quanto riguarda l'Ossola, ancora da definire se la regione opterà per una nuova struttura ospedaliera, da realizzarsi nell'area prossima allo svinco della superstrada, al confine fra i territori di Domo e Villa d'Ossola. Si valuteranno costi e benefici. Nel caso in cui si propendesse per il mantenimento dell'attuale struttura, deve essere chiaro che non si tratterebbe di una riqualificazione di quanto esiste oggi. Si tratterebbe di un nuovo plesso, anche in questo caso, fa notare Preioni. Raccogliendo l'appello lanciato nelle scorse settimane dal sindaco di Verbagna, Preioni parla anche del futuro dell'ospedale Castelli. Non vogliamo chiuderlo e neppure privatizzarlo. Pensiamo ad un'unforte specializzazione. In campo oncologico, con il mantenimento del D.E. e di altri dipartimenti. Al centro, pensiamo possa esserci la creazione di un polo di eccellenza nel campo di cura dei tumori. Un centro in grado di dare risposte ai cittadini del VCO, costretti oggi a migrare verso altre strutture, conclude il consigliere.